Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Apriamo parlando del Consiglio Comunale di Chieti. Quest'oggi una seduta particolarmente attiva, una seduta che è stata dedicata all'approvazione del bilancio, il servizio. Assestamento di bilancio, oggi Consiglio Comunale a Chieti, battaglia il caso di dire in Consiglio Comunale Sindaco? Sì, battaglia, battaglia tutto sommato prevedibile. Ahimè, anche con tanta sciocchezza da parte politica, da parte delle opposizioni che continuano a fare un ostruzionismo assolutamente vuoto, senza alcun senso. I problemi ci sono, li conosciamo tutti. Noi ci stiamo mettendo faccia, senso di responsabilità e tanto lavoro per salvare il bilancio del Comune e per salvare la città. Loro come sempre ci mettono un siparietto da teatro di terzo livello. Sono contenti loro, saranno contenti anche i loro elettori. È la terza volta, il terzo anno consecutivo, che c'è parere negativo sulle previsioni di bilancio. E anche con un nuovo collegio di revisori rimane questo dubbio forte della gestione finanziaria dell'ente che, a parere dei revisori, non porterà sicuramente niente di buono per l'ente. Ecco, noi stiamo cercando in qualche modo in aula di far evidenziare queste problematiche e in particolare le previsioni di entrata sono sempre sovrastimate rispetto poi a quello realmente accertato. Questo porterà al collasso, come già è di fatto l'ente, e sicuramente andremo sempre più verso il dissesto da parte dell'ente. È lunedì di Consiglio Comunale anche a Teramo con argomenti simili. Quindi, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, oggi durante la Sise Civica, con il punto all'ordine del giorno, all'approvazione del debito fuori bilancio di oltre 900 mila euro, hanno abbandonato la seduta. Io credo che quello dei debiti fuori bilancio ormai sia diventato in questa amministrazione un uso e un abuso. laddove ci sono delle inadempienze da parte di dirigenti o di amministratori che in passato hanno sottovalutato questo percorso, secondo me andrebbero responsabilizzati e chiamati in causa. Non si può, ogni volta che c'è un problema, tornare in Consiglio Comunale con una variazione e con un debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio di una portata così importante, notevole economicamente parlando, si parla di centinaia di miliardi di euro, noi chiediamo dove sono le responsabilità dei dirigenti che hanno consentito di arrivare a un debito fuori bilancio così importante, dove sono le responsabilità degli assessori che in quel momento amministravano e non si può chiedere ogni volta una sanatoria come se uno commettesse peccati in continuazione e andasse poi in chiesa con una preghiera e gli venissero abbonati e scontati tutti i peccati. Il peccato va pagato, quindi quando si contrae un debito fuori bilancio noi vogliamo capire di chi è la responsabilità e quantomeno chiamati in causa per le proprie competenze. Perché uscire e non astenersi? Assolutamente, noi non mettiamo nessuna firma su un atto deliberativo di un Consiglio Comunale. Essere presenti, astenersi è come mettere una firma su questo debito fuori bilancio. Noi non l'abbiamo contratto, non eravamo responsabili, non siamo responsabili, non votiamo assolutamente. Siamo posizione di maggioranza di destra di questa amministrazione e lo continueremo ad essere fin quando non ci sarà chiarezza da parte del Sindaco. E restiamo in argomento, Consiglio Comunale movimentato a Teramo sui diversi punti all'ordine del giorno, ma quello che all'opposizione interessava di più è stato rimandato, ovvero la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio, Milton Di Sabatino. Fabio Berardini, dal debito fuori bilancio, dalla maggioranza che si sta un po' spaccando, non c'è più condivisione, che passa da una lista ad un'altra e soprattutto la sfiducia al Presidente del Consiglio, Milton Di Sabatino. Qual è la vostra posizione da opposizione? Noi pensiamo che questa maggioranza sia completamente spaccata, che il Sindaco non abbia più il controllo di questa situazione e ne abbiamo avuto la riprova anche oggi, in quanto noi abbiamo presentato come opposizione una questione sospensiva perché la mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale deve essere messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, secondo appunto il regolamento. Invece questa maggioranza, questo Sindaco e questo Segretario Generale, in completo sprezzo delle norme e delle regole di legge, hanno pensato bene di prendere tempo e voler differire la cosa. Tant'è che è stata necessaria anche una riunione di maggioranza lampo, proprio perché il Sindaco non ha proprio il benché minimo controllo di questa maggioranza. Si continua ad andare avanti violando le regole, si continua ad andare avanti approvando variazioni di bilancio che comportano ulteriori aumenti di spesa. Un Comune, dal nostro punto di vista, completamente allo sbando e noi ci aspettiamo a breve che questo Presidente del Consiglio sia rimosso, in quanto non rappresenta più l'imparzialità e anche oggi ha voluto dare la parola prima all'amministrazione e concedere la pausa senza dar modo all'opposizione di dire la sua. Questa è veramente una situazione intollerabile che denuncieremo in tutte le sedi opportune. L'ex Presidente della Regione, Gianni Chiodi, parla del centrodestra di oggi rispetto agli anni passati. Il centrodestra è vincente solo se va unito, ha detto, e le aspettative sono state enfatizzate durante la campagna elettorale. Ascoltiamolo. Come vede il centrodestra oggi con la maggioranza il centrosinistra, rispetto agli anni passati? Oggi governare usura, nel senso che porta a deludere quelle che sono le aspettative, soprattutto quando queste aspettative sono state enfatizzate in modo assai populistico e demagogico durante le campagne elettorali. Quindi la delusione poi diventa forte e in questo senso il centrodestra sta riprendendo. Tutti gli indicatori ci dicono che il centrodestra comincia ad essere ripercepito come alternativa naturalmente se va unito. Se non va unito ovviamente è perdente. Però noi in Abruzzo abbiamo già dimostrato che anche in tempi duri per il centrodestra e quindi di vento contrario, l'unione ha portato a dei risultati elettorali favorevoli. Mi riferisco per esempio a Chieti, uno dei nostri quattro capoluoghi. Quanto riguarda poi il centrosinistra, al di là di una serie di annunci che diventano una sorta di annuncite da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, credo che la situazione sia chiara a tutti. Il Paese non va bene, le famiglie non stanno bene, gli imprenditori stanno malissimo. Non si assume ma si licenzia ancora. Non è vero questa ripresa che tra l'altro è assolutamente marginale e che forse porta a pensare a non capire bene qual è il problema vero, altro che lo 0%. Noi abbiamo perso 13 punti percentuali di PIL. Adesso 0,2, 0,1. Festeggiare per questo mi sembra assai ridico. La situazione è insomma molto grave, molto pesante e il centrosinistra non è in grado di affrontarla come sta dimostrando in questi anni. Oltre 35 milioni di tagli per patronati e CAF. Anche in Abruzzo i sindacati invitano il Governo a ripensarci per non far ricadere le conseguenze sui cittadini meno abbienti. Coccia, ancora tagli per i CAF come nello scorso anno, cittadini penalizzati? È un taglio che va a pesare pesantemente sul servizio che noi organizziamo da anni ormai e naturalmente va a pesare anche sugli organici, sia dei CAF che dei patronati. Per cui noi invitiamo il Governo a riflettere e a bloccare questa iniziativa perché si tratta di un'iniziativa penalizzante che certamente non va a penalizzare il sindacato. Va a penalizzare invece il servizio che viene erogato a 360 gradi sui comuni del nostro Paese e un servizio fondamentale appunto per le fasce più deboli della popolazione che non possono permettersi il ricorso a privati. A sindacati uniti per invitare il Governo a ripensarci? Noi siamo a ribadire che occorre proprio un'inversione di tendenza anche perché se questi tagli venissero confermati ci sarebbe una mancanza di strutture CAF ad esempio sui territori, proprio nei territori più interni della nostra regione e della nostra provincia. Quindi a questo punto sarebbero svantaggiati come sempre quelli che non possono accedere a un servizio centrale. In trasferta dal Lazio erano probabilmente pronte a commettere dei furti in pieno centro a Pescara ma sono state bloccate dai carabinieri del nucleo investigativo in collaborazione con i militari del radiomobile della compagnia di Pescara. Si tratta di tre giovani nomadi che sabato sera erano state segnalate da alcuni cittadini a girarsi con fare sospetto nei pressi di private abitazioni in via Raffaello. Tra loro una 14enne, una di loro, una 19enne residente nel campo nomadi romano della Barbuta è risultata ricercata per un ordine di carcerazione emesso il 19 novembre scorso dal Tribunale di Frosinone per furto aggravato in abitazione con applicazione di una pena residua di due anni, cinque mesi e 19 giorni di reclusione per reiterati furti in abitazione commessi nel centro Italia. Fondi per le malattie rare questa mattina a Pescara se ne è parlato nell'incontro fra Andrea Sciarretta, papà della piccola Noemi e gli assessori regionali Sclocco e Paolucci. Per la prima volta quest'anno è stato fatto un bando proprio per andare incontro alle famiglie con genitori disoccupati, con figli gravissimi, con malattie genetiche gravissime quindi proprio un bando specifico per le problematicità più forti. Assessore Paolucci, assessorato alla sanità e anche assessorato competente in questa vicenda una vicenda comunque complicata che resta difficile da affrontare. C'è sempre più un'integrazione tra sociale e sanità che plasticamente si raffigura anche con la presenza congiunta in questi incontri ma che poi operativamente ha dato già seguito da alcune risposte e iniziative come quella sulle malattie rare, sui posti letto dedicati a Pescara ovviamente il percorso integrato di un servizio di assistenza poi una volta concluso quello sanitario e anche quello per acuti deve trasferirsi sul territorio, in casa, con le cure domiciliari o con un'assistenza sociale adeguata e pertanto sarà oggetto anche di confronto esattamente questo tema. Andrea Sciarretta, oggi incontro con gli assessori Sclocco e Paolucci per parlare di questi fondi per la disabilità fondi che sarebbero disponibili ma che sono da sbloccare al più presto. Sono quei fondi destinati alle famiglie che hanno in carico disabilità gravissime e quindi vogliamo far sì che ci sia una continuità nell'erogazione anche perché nel luglio del 2015 è stato approvato un bando sui carghi per familiare e stiamo ancora aspettando che questi fondi vengano enlargiti. Come sta la piccola Noemi? La piccola Noemi come sempre combatte, ricordiamo che comunque l'asma è una malattia del motoneurone quindi è neurodegenerativa, quindi la bimba non si stabilizza in continuo peggioramento. Ciò che la tiene in vita è l'assistenza, l'assistenza domiciliare, l'assistenza del genitore. Quindi è moralmente impegnativo far sì che le soluzioni migliori devono uscire dalla regione affinché sia Noemi che i bimbi come lei abbiano dei mezzi concreti per far sì che continuino la loro esistenza. La giunta regionale nella seduta di oggi pomeriggio ha preso atto e accettato le dimissioni presentate dal direttore generale della ASL di Avezzano, L'Aquila e Sulmona, Giancarlo Silveri presentate il 27 novembre scorso. Le dimissioni di Silveri inizieranno a decorrere dal prossimo 31 dicembre. L'operato del manager dimissionario sarà comunque soggetto alla verifica dei 18 mesi secondo la griglia di valutazione valida per tutti i manager delle ASL abruzzesi. Telecamere di sorveglianza e implementazione dell'illuminazione pubblica. Il progetto Occhi su Montesilvano. L'amministrazione Maragno punta la sicurezza sul territorio e coinvolge istituzioni e forze dell'ordine. Occhi su Montesilvano, occhi che proteggono, monitorano e creano più sicurezza percepita da parte dei cittadini. Si tratta di un progetto volto ad operare una costante ricognizione sul territorio. Un intervento cofinanziato mediante il programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. L'esigenza nasce dal bisogno primario di questo territorio, di avere maggiore vigilanza, di avere maggiore prevenzione. Prevenzione va di pari passo con l'educazione, ecco perché oggi noi vogliamo far filtrare questo messaggio soprattutto nelle scuole, nelle scuole dove noi abbiamo attivato una serie di sistemi di videoserveglianza. Vogliamo sostanzialmente venire in conto all'esigenza di questo territorio così vasto e così difficile da controllare e lo stiamo facendo nei migliori modi e continuiamo a farlo anche nei prossimi giorni cercando di trovare le risorse per implementare questa attività. Il progetto si muove su due linee, da un lato l'implementazione dell'illuminazione in zone periferiche e isolate, dall'altro l'inserimento di circuiti di telecamere capaci di monitorare costantemente aree vittime in precedenza di atti vandalici. Sono due linee per un importo totale di 360 mila euro, circa 120 mila euro per un sistema di illuminazione che abbiamo inteso effettuare nel nostro lungo fiume Saline, un lungo fiume che oggi fino a qualche giorno fa rappresentava un'area degradata su cui stiamo intervenendo e intendiamo assolutamente valorizzarla. L'altro progetto riguarda un sistema di videosorveglianza che noi abbiamo prioritariamente installato nelle scuole di Montesilvano. A svolgere una funzione centrale sarà il comando della Polizia Municipale di Montesilvano con un centro operativo nel quale convergeranno tutte le telecamere del territorio. Avremo una possibilità di controllare meglio tutti i possibili atti vandalici che si potranno perpetrare nei confronti delle scuole. In più, e immagino che l'amministrazione in questo farà idonea pubblicità, i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni che rilevano sul territorio. Dall'Unione Europea arrivano 5 milioni di euro per il comune di Teramo, fondi che saranno impiegati per riqualificare, anche per riqualificare, un luogo storico della città da anni in abbandono, ovvero il mercato coperto. Sindaco, 5 milioni di euro per il mercato coperto, un investimento importante? Sono 5 milioni di euro che vengono da finanziamenti europei, dalla linea che prevede come presupposto la sostenibilità, la sostenibilità ambientale, riguarda le piste ciclopedonali, riguarda la banda ultralarga, riguarda i percorsi culturali e riguarda il mercato coperto. In questo progetto che stiamo portando avanti è l'occasione di organizzare un evento dentro il mercato coperto, mette in evidenza ancora di più la volontà dell'amministrazione di voler riportare a lucido questo spazio importante, uno spazio che è storico, i mercati generali e quindi andiamo avanti. Bruxelles ci ha dato già il via libera alla prima fase, siamo contenti e soddisfatti, cercheremo di vedere se c'è la possibilità di avere altre risorse che ci permetterebbero di inserire dentro questo progetto anche il vecchio stadio, perché in questo momento il vecchio stadio c'è un progetto, c'è uno studio di fattibilità, ma non c'è una possibilità pratica di realizzare un progetto. Stiamo cercando di metterlo all'interno anche del discorso del mercato coperto e di 5 milioni di euro che adesso abbiamo dei fondi europei. Adesso prepariamo il progetto, lo presenteremo alla comunità europea, ma sicuramente il mercato coperto manterrà la sua funzione principale, quello di mercato coperto, di mercato generale e attorno al mercato generale costruiremo un progetto, ripeto, che ha come presupposto la sostenibilità ambientale, per questo l'Europa dà i soldi, l'Europa dà i soldi sulla vivibilità, sulla sostenibilità ambientale, sulle piste ciclopedonali e noi questo vogliamo realizzare. E restiamo a Teramo, entro la fine dell'anno nascerà in Consiglio Comunale un nuovo gruppo, una nuova lista civica, il fautore e l'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino Martina, un gruppo di cui farà parte molto probabilmente anche l'ex assessore comunale, attuale consigliere Guido Campana, che sta per abbandonare la lista di Dalmazio. Consigliere Campana è ufficiale, è uscito dalla lista? È una mia riflessione sulla ricerca civica che ho fatto in maniera anche importante, anche perché si deve crescere, deve crescere, si deve cercare di verificare cosa poter fare per quanto riguarda appunto il futuro, che poi il futuro politico è sempre quello più importante per noi consiglieri. Qualche passaggio dalla mia civica non mi è piaciuto, quindi l'ho detto anche a Mauro e ho parlato anche con Mauro, capire che fine farà la ricerca civica, perché credo che già quasi è finita, anche perché non c'è più collaborazione e coordinamento fra di noi. Io non sono un politico, sono un uomo della città e la città appunto mi dice di dover lavorare per migliorare tanti aspetti e per questo motivo voglio lavorare per la città. Cosa che non c'è stato prima di tutto? Condivisione? Condivisione appunto, non ci vediamo mai, è brutto questa cosa qui, sindaco ha problemi seri in mezzo alla giunta, si vede, in mezzo al consiglio pure, e qualcosa dobbiamo fare per poter svegliare questa città, perché poi veramente se ci mettiamo in mano la politica è brutto. Condivisione di un progetto politico con il consigliere di Sabatino? Beh, da lo sento pure, ci sentiamo anche lui, ha le sue idee, come anche le loro idee, vediamo cosa succede nel futuro. Considerato il non equilibrio, qual è il suo futuro nella maggioranza? Il mio è un futuro di crescita, perché la politica si fa sulle prospettive, si fa su quello che è un percorso condiviso e si fa coinvolgendo su un'idea, e non si fa contro qualcuno. Ragion per cui stiamo sentendo degli amici, dei consiglieri comunali che manifestano anche loro, insomma, delle perplessità in ordine a quello che sia stato l'andamento di questo primo anno e mezzo, e quindi su questo ci stiamo confrontando, anche per dare uno slancio a questa amministrazione che onestamente, credo, ristagna rispetto a quello che, ripeto, credo sia debba essere, insomma, il principio in base al quale si sta insieme in un percorso politico. Potrebbe esserci il consigliere Campana? È uno di quelli con i quali parliamo con piacere. Serviva il rimpasto di giunta effettivamente? Serviva il rimpasto di giunta e forse il sindaco non ha capito bene l'importanza. Il sindaco deve fare il sindaco e deve comandare da solo. I partiti e i big politici non devono comandare da solo. Credo che il sindaco è rimasto solo e solo e nessuno sta proteggendo. Ecco perché dico al sindaco di fare lui il sindaco e di non farlo fare ad altri. E nasce sempre a Teramo l'associazione La Manovella, orientata ad operare nel sociale. Il nome e il simbolo rimandano alla necessità di rimettere in moto la società. Con quale auspicio nasce questa nuova associazione? Ma innanzitutto, proprio dal nome La Manovella, mettiamoci in moto, cioè per ripartire. Prima c'era un'associazione culturale che si chiamava La Manovella, di cui ero presidente, oggi siamo noi politici, noi eletti, diciamo, siamo usciti da questa associazione per lasciarla in mano ad un gruppo di amici che hanno voglia di fare sul territorio al di là del colore politico. Questa voglia di fare che comunque deve essere slegata alla politica, riavvicinare la gente al fare senza dover passare per forza per la politica. Quali finalità e quali sono le caratteristiche? Allora, le caratteristiche? Noi siamo un'associazione socioculturale che ci rivolgiamo molto al sociale e non è un'associazione politica ma vuole stare vicino alla politica per parlare, fare dei tavoli e organizzare tutti i problemi che può avere il mondo del sociale, delle persone più deboli, promuovendo delle manifestazioni in cui si possono raccogliere dei fondi per diverse situazioni riguardanti al sociale. Ma ogni qualvolta si fanno manifestazioni, il giorno prima fare una tavola rotonda invitando la stampa se vuole essere con noi. E i politici che si devono confrontare con questi problemi per dare una risposta più ampia e non solo quello di una sera ma alle problematiche che ci sono nel mondo del sociale, nel mondo dei più deboli, che ne sono tantissime. Nasce da un'esigenza specifica? Nasce da un confronto con tanti amici che si sono uniti e hanno pensato di poter fare qualcosa di positivo per tutta la nostra comunità. E' un'ispirazione di una vecchia associazione Moris Ravelle dove c'era anche Giorgio prima e che quindi ha voluto riprendere questo percorso che ha portato a tante cose positive, tante manifestazioni che avevamo fatto. E ora parliamo di agricoltura, qualità, innovazione e radicamento nel territorio. Se ne è discusso a tollo nel convegno dal tema la filiera sostenibile tra innovazione e radicamento. La crescita della filiera agroalimentare a Bruzzese passa attraverso la qualità, l'innovazione e il radicamento del territorio. Su questi temi si è discusso a tollo dove si sono confrontate istituzioni e aziende. Noi dobbiamo migliorare la nostra qualità nell'offerta, non intesa come qualità del prodotto ma soprattutto come organizzazione produttiva dell'offerta. Noi dobbiamo essere protagonisti sui mercati nazionali ma soprattutto sui mercati internazionali lo possiamo fare costruendo la filiera sostenibile del settore vine. E' stato fatto tanto in questi anni, dobbiamo migliorare ancora di più con gli strumenti e le risorse del piano di sviluppo rurale sicuramente daremo un impulso importante a questo settore. Un progetto pilota che è partito dopo che Cantinatollo insieme all'altra cooperativa hanno dato vita alla Doc Tullum e quindi abbiamo bisogno non solo di fare degli ottimi prodotti con la Doc Tullum ma dare un prestigio a questa Doc. Il prestigio a questa Doc si può dare prendendo in esame tutto il percorso della filiera, quindi dalla produzione in campagna alla vinificazione e alla comunicazione che deve essere arricchita di altri valori non solo della qualità del vino. E ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con il Pescara. Oggi ripresa degli allenamenti al Poggio degli Olivi. Buone notizie per due giocatori, il portiere Vincenzo Fiorillo e Luca Forte sono rientrati in gruppo allenandosi regolarmente con la squadra per l'intera seduta. Fiorillo indossando anche una mascherina protettiva in carbonio, una mascherina che sta già indossando da qualche giorno, una mascherina con la quale quasi certamente sarà in campo sabato nella gara casalinga contro lo Spezia. Invece le brutte notizie riguardano Ugo Campagnaro e Luca Storrera per Campagnaro che stava effettuando lavoro personalizzato, c'è stato un riacutizzarsi del problema al Polpaccio un riacutizzarsi di questo problema che di fatto andrà ad allungare i tempi di recupero del difensore argentino che insomma poteva essere a disposizione di Oddo per la gara contro lo Spezia ma a questo punto sarà molto molto difficile. Invece per Torreira che comunque sarà squalificato per la gara di sabato un infortunio in uno scontro di gioco, un infortunio nel quale ha rimediato una forte distorsione alla Caviglia. Per il centrocampista uruguaiano ora saranno necessari degli esami strumentali per valutare l'entità di un infortunio che comunque ha recato molto dolore appunto allo stesso Torreira. Oggi alla ripresa degli allenamenti ha parlato anche il tecnico Massimo Oddo che è tornato sulla sconfitta di Cesena e ha parlato di limiti nella personalità da parte della squadra. Io quando sono duro non è per colpire nessuno, a volte anche per colpire me stesso. Quindi è duro perché ovviamente dispiace il fatto che arriviamo sempre lì per fare il salto di qualità ed è la seconda volta dopo Novara che falliamo una partita. Ma non tanto il fallire che ci sta a perdere una partita, ci sta a perdere una partita a Novara che è un'ottima squadra, ci sta a perdere una partita a Cesena che è accreditata da tanti come una delle pretendenti alla Serie A. Quindi quello ci sta. E il fatto di variare troppo da una partita all'altra la prestazione. Ma su questo è normale che ci sia un po' di delusione da parte di tutti, mia ma anche dei ragazzi perché ovviamente i ragazzi non è che lo fanno apposta, ci mancherebbe. Io quello che ho visto dalla panchina è che domenica non abbiamo avuto la personalità e la volontà di voler giocare di più il pallone. Anche il fatto di accostare spesso le sconfitte al fatto che ci conoscono e ci vengano a prendere. Secondo me non è così perché noi lavoriamo settimanalmente ormai da tre mesi sul fatto di saper uscire dalle situazioni in cui ci vengono a pressare. L'Avellino ci è venuto a pressare, il Cagliari ci è venuto a pressare, eppure siamo usciti. Quello che è mancato domenica secondo me nell'ultima partita è stato un po' di personalità nel voler giocare di più il pallone. C'era meno sicurezza delle altre partite. Voi mi chiedete perché, questo dovrò scoprirlo. Non lo so. Non parliamo di calcio. Pensiamo alle sei partite che rimangono prima e alla fine del giorno di ritorno. Pensiamo a fare il meglio possibile con questi giocatori che abbiamo, di cui io sono molto soddisfatto. Evitiamo di parlare di mercato. Il mercato ci sarà. Quando si aprirà ci sarà. Se dovremmo fare qualcosa lo faremo. Nelle ultime ore si parla in casa Pescara anche dello stop per il progetto di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Ci sono le parole di rammarico del presidente Daniele Sebastiani che dice penso che non c'era motivo per porre in essere questo vincolo. Quello che vogliamo fare, ha spiegato il massimo dirigente, non avrebbe infatti messo a rischio le colonne del piccinato. Un progetto innovativo che non deturpa l'ambiente e l'architettura e che vedrebbe nascere uno stadio rinnovato attraverso un bando pubblico che ci vede come Pescara Calcio solo come uno degli attori del progetto. Ora attendiamo anche le mosse del comune, ma non posso non constatare, prosegue Sebastiani, come questa situazione porterà ad un allungamento dei tempi considerando che avevamo già presentato uno studio di fattibilità con Bifutura e che prima di metà mese era stato fissato un nuovo appuntamento in comune per la presentazione del progetto preliminare. Tutto questo ora rischia quantomeno di slittare. E ora parliamo di Virtus Lanciano, una Virtus rilanciata dal successo conseguito sabato contro il Latina in condizioni peraltro abbastanza difficili. dopo un rigore concesso a Latina sbagliato da Corvio all'espulsione di Di Cecco è arrivato poi il rigore trasformato da Piccolo, autore di una doppietta e sentiamo proprio il match winner Antonio Piccolo e anche le parole molto significative del centrocampista rosso-nero Fabrizio Paghera. È stata una partita che anche nei minuti dove ci ha visto in 10 contro 11 abbiamo dato l'anima perché volevamo vincere, perché per noi era importantissimo vincere e ci dà morale per affrontare questa ultima parte del campionato e quindi è un grande periodo a questa squadra. Sono stato solo il finalizzatore delle occasioni che abbiamo creato. nessuno decide le partite come singolo, è la squadra che contribuisce. Poi c'è sempre chi finalizza le azioni e le concretizza, quindi non è solo merito mio ma è merito di una squadra, di uno staff che ci permette comunque di lavorare bene e è un momento positivo soprattutto per me, speriamo che possa anche evolgersi per la squadra. È una partita proprio delle nostre questa perché non passava, non finiva mai, abbiamo fatto di tutto e penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo fino al gol loro che lì ci siamo impauriti ma quando sei sotto in classifica è normale che magari ti viene un po' di ansia quando vedi un risultato che ti sta sfuggendo. Poi è stato l'episodio del rigore che per loro ha girato tra virgolette a nostro favore c'è stato magari con la spinta emotiva, però in dieci dopo non era facile ma abbiamo un cuore grande e quando siamo una cosa sola diciamo noi ma soprattutto l'ambiente che ho visto oggi, i tifosi perché non l'ho visto sempre quest'anno, quando c'è questo entusiasmo tutti insieme e venire a vincere il Lanciano è dura, poi non so come finire l'anno però se c'è questo ambiente penso che il Lanciano sarà duro a morire. In Lega Pro invece è stata una domenica di sorrisi per le due abruzzesi per via delle vittorie casalinghe di Teramo e L'Aquila, partiamo dalla vittoria del Teramo 2-1 sul Siena con le firme di Caidi e di Paolo Antonio. Col cuore la grinta e mettendoci anche qualcosina in più il Teramo torna alla vittoria e lo fa in un giorno, quello della sfida col Siena in cui la tensione prima del match la si respira. Ivarini sceglie il 3-5-2 e alla fine le scelte gli daranno ragione. E come? Perché dopo il riflesso al 21esimo di Tonti sulla vista Di Paolo Antonio schierato esterno-sinistro apre le danze con il destro sull'invito di Moreo. Il diagonale batte Montipò e sembra presagire ad una giornata che nonostante il freddo sembra volgere al sereno. Petrella schierato a fianco dell'Aerone prova la staffa filata al 28esimo alta mentre Portanova, 60 secondi più tardi, stacca di testa sul corner della vista con Mastronunzio che non riesce a correggere sotto misura. La Vivera che al 33esimo prova il diagonale, disinnescato da Tonti coi piedi prima della doccia gelata per il Bonolis che arriva al 43esimo. Piredda assista al bacio per Giorgio Lavista solo davanti a Tonti che rimane in piedi ma non riesce ad evitare il lob vincente del numero 10 senese. Malteramo la ripresa all'approccia con quello spirito di sacrificio che oggi l'ha contraddistinta e che poche volte si era visto quest'anno. Il corner di Amedio è preda di Nebil Caidi che prende l'ascensore. Frana, forse in maniera irregolare su Sacilotto, è deposita in fondo al sacco tra le proteste dei bianconeri di Azzori per il centrale difensivo come per Di Paolo Antonio, primo gol in stagione. I biancorossi sembrano scrollarsi di dosso un po' di tensione a questo punto ma il Siena è squadra toste dopo la parata di Montipò su Petrella, minuto 61 e la formazione di Azzori a prendere in mano il pallino del gioco. Bonazzoli sfrutta il contrasto vinto con Dorazio, destro Vivalento fuori Ma è un assalto quello toscano. Altobello salva sulla linea il colpo di testa di Portanova quando però il gioco era già stato interrotto per una posizione di offside del difensore bianconero. Azzori butta dentro Libertazzi e De Feo ed è proprio l'ex lancianese a far passare l'ultimo brivido ai tifosi del diavolo all'89 esino quando l'estremo difensore di casa salva prima che Massimi di Termoli, dopo sei minuti di recupero, certifichi una vittoria vitale per il Teramo che oggi forse per la prima volta è sembrato capace di andare oltre quei limiti tante volte sottolineati in questa settimana. Teramo che tornerà in campo domenica alle ore 15 al Porta Elisa di Lucca contro la Lucchese invece l'Aquila che ha vinto anche lei ieri al Fattori 2-0 contro il Prato giocherà venerdì dunque in anticipo all'Artemio Franchi di Siena proprio contro la squadra battuta dal Teramo e l'Aquila vola con la premiata ditta partenopea Perna San Domenico, Perna autore della doppietta San Domenico invece fa autore dei due assist proprio per il compagno di squadra nonché conterraneo il servizio L'Aquila vola al Fattori, batte 2-0 il Prato e centra il secondo successo interno consecutivo in più esorcizza la bestia nera Prato contro cui non vinceva dal lontano 2011 una prova di qualità e sostanza per gli uomini di Perrone puntuali soprattutto in difesa con la piacevole scoperta Cosentini sempre sugli scudi Cosentini forse il migliore in campo, i complimenti nuovamente anche di Perrone in sala stampa ormai è un punto fermo di questa L'Aquila, chi se lo aspettava? Neanche io veramente me l'aspettavo, devo dire grazie in primis al mister come dico sempre perché è lui che mi ha trovato questo ruolo e mi sta dando fiducia poi vabbè, da solo non faccio niente, sicuramente la squadra ha giocato bene e mi dà una mano in tutto quello che faccio, soprattutto Mancarone anche Mancini, insomma i più grandi che mi danno molta fiducia e mi danno anche consigli molto buoni Nell'undici iniziale Perrone sorprende tutti, niente 4-2-4 ma 3-5-2 il modulo inaugurato nel derby con il Teramo dal primo minuto si rivede De Francesco in mediana, in attacco Ceccarelli agisce dietro Perna preferito a De Sousa che parte inizialmente dalla panchina L'Aquila inizia bene, tesse le trame di gioco ma senza sbocchi in avanti al trentesimo però ecco la prima vera chance Milicevic imita Ibraivovic, tacco volante a liberare Perna che conclude così in diagonale lambendo il palo Al tramonto del primo tempo, seconda chance cestinata dai Rossoblu Manuel Mancini recupera l'ennesimo pallone a metà campo sponda di Perna, Lobba a cercare Ceccarelli che sbaglia il controllo con il Mancino e scivolando, cicca di destro sul fondo L'Aquila però capitalizza la mole di gioco nella ripresa salgono i ritmi, Perrone fa entrare prima Piva al rientro dall'infortunio per Ligorio quindi De Sousa al posto di Ceccarelli Al cinquantaduesimo, grande giocata in un fazzoletto di San Domenico che spara a botta sicura trovando Rossi in angolo Al sessantaquattresimo, l'unica vera occasione per il prato di De Petrillo cross dalla sinistra per il colpo di testa del neo entrato Gomez che trova i guantoni di Zandrini Il gol aquilano è nell'aria, minuto 71 Cosentini lancio, telecomandato per San Domenico sulla destra cross al bacio per Perna che in spaccata fa 1-0 Terzo centro in campionato per l'ariete napoletano e secondo assist di San Domenico a Perna dopo quello contro il Teramo La premiata ditta partenopea non ha però concluso lo show Tre minuti dopo Mancini scodella per San Domenico di nuovo cross dalla destra e stavolta di petto alla Balotelli Perna fa 2-0 regalandosi la prima doppietta in rosso-blu Quarto gol in campionato per il 9 aquilano e pensare che l'anno scorso erano stati solo tre i centri nell'intera stagione Perna che poi in transagonistica interviene così su Cavagna beccandosi il giallo Meno sanguinoso però di quello che rimedia Manuel Mancini che diffidato sarà costretto a saltare la gara di Siena in programma venerdì sera Finisce qui 2-0 e tanti applausi per l'Aquila che gara dopo gara sta sorprendendo anche i più scettici ad inizio campionato Se si continua così la salvezza potrà arrivare senza Patemi nonostante la penalizzazione futura A fine gara è raggiante in volto l'artefice principale della rinascita il tecnico Carlo Perrone Perrone difficilmente chiedere di più seconda vittoria consecutiva in casa grandissima prestazione, tanta qualità in mezzo al campo e poi doppietta di perna Sì abbiamo fatto finalmente quasi tutto bene diciamo meglio il secondo tempo che non il primo dove comunque abbiamo creato tanto però abbiamo finalizzato poco sono contento perché comunque penso che i ragazzi si meritino questa soddisfazione per l'impegno che stanno mettendo dall'inizio del campionato oggi abbiamo fatto veramente una bella partita abbiamo cercato di giocare abbiamo creato tanto e diciamo che abbiamo reso inoffensivo un prato che comunque veniva da tanti buoni risultati Ecco, tra l'altro una bella nota nel finale qualche coro dalla tribuna per Carlo Perrone Ma non ho nemmeno sentito ma comunque i tifosi devono incitare sempre e sostenere la maglia io sono sempre abituato così i singoli passano sempre quello che resta è sempre la società e la squadra quindi è giusto che la gente diciamo faccia i cori per l'Aquila Calcio se noi quest'anno riusciremo a fare qualcosa di buono sarà tutto di guadagnato Noi ci fermiamo qui tra poco il TG6 L'Aquila e poi questa sera alle ore 21 replay di Enrico Rocchi per commentare l'attuale momento del Pescara grazie per l'attenzione buon proseguimento per i nostri programmi